Benvenuti nel canale Meli Made in Sud e da un bel po' di tempo che non ci vediamo spero innanzitutto che state tutti tutti bene ringrazio anche le persone che si sono iscritte al canale nonostante io non pubblicassi nulla, grazie e sono passati credo un due mesi, giorno più giorno meno ma all'incirca ecco sono passati due mesetti noi siamo stati in vacanza, è stata una lunga vacanza estremamente estremamente rigenerante e spero appunto che anche voi state bene che abbiate, per chi già le avesse fatte, che abbiate trascorso delle serene vacanze se invece ancora dovete andare in vacanza o se andrete in vacanza vi auguro delle vacanze rigenerative ecco perché ne abbiamo bisogno, la cerevella si deve un pochino rigenerare per chi non potesse andare in vacanza vi auguro di organizzare i vostri giorni quantomeno il più sereni possibile ora bando alle ciance vi faccio vedere quello che ho preso da Ipercop non è una grandissima spesa ho preso giusto qualcosina però avevo voglia di girare qualche video di ritornare a girare qualche video e quindi mi sono detta o registro o non registro più devo girare anche tantissimi video tra cui video acquisti qualche video acquisti un video mi preparo con voi con una palette occhi bellissima insomma ho tante tante idee preferiti e via via vi ricordo prima di iniziare che mi trovate su Instagram con il link Meli Made Meli Made niente non mi ricordo neanche più l'account grazie Giulio Meli Made in Sud abbiate pietà di me ma ho dimenticato completamente tutto vabbè una cosa volevo dire in questi mesi ogni tanto mi sono collegata ho visto qualche giusto qualche video su YouTube ho visto qualche video su Instagram qualche stories qualcosa così ma nulla di che perché appunto ho staccato completamente ma agenda se sta asciugnando proprio cioè la gente sta perdendo completamente il lume della ragione il senno in tutti i sensi proprio ma che sta succedendo non si capisce niente più andiamo avanti e peggio le cerevelle giac di giac vabbè un bandole giac trin 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 mi sono mancata ma stai andando bene non fare questi scherzi va bene la voce dei bambini è la voce della verità pesce fritto e bacca come di consueto ogni prodotto che vi mostrerò avrà qui scritto il relativo prezzo dimenticavo sono strade per copp l'ha giudito l'ha giudito ma la mia mente così è labile sono una labirissa una labirinta allora ho preso di granarolo la mozzarella formato scorta quattro mozzarella che lo dico a fare per una napoletana la mozzarella in busta è un po' un'eresia un bottante un'eresia però ecco qui mi sono trovata e qui ho preso queste mozzarella non sono assolutamente diciamo le mie preferite però ecco ho detto tutto poi ho preso una confezione di pomodoro datterino catenese confezione da 490 grammi al chilo 3,99 e oro l'oro rosso poi un'altra confezione di pomodori questa volta sono pomodori per insalata 2,59 al chilo ne ho presi 640 grammi pomodoro oblung oblung verde vedete e verde poi uva io ho fatto una spesa una mega spesa sabato però sabato non avevo assolutamente intenzione di girare video ma semplicemente perché ero stanca ma proprio stanca stanca ero cotta letteralmente cotta e quindi ecco vedete giusto qualcosina che sono andata a implementare allora ho preso l'uva black questa è uva black magic è un'uva magica 2,79 al chilo ho preso 918 grammi vabbè stavo dicendo anche il prezzo ma il prezzo lo vedrete sovrimpressione poi questo l'ha scelto Giulio della Santal Plus gusto vellutato ananas e cocco con una goccia di latte questo è divino molto molto buono vi consiglio di conservarlo sia in frigorifero ma prima di assaporarlo degustarlo tenerlo almeno una mezz'oretta in congelatore ho preso adesso qualcuno dirà la nutella questa qui in realtà mamma ha sempre comprato il formato big quello quello che era pande ha sempre detto melanie quello conviene quello conviene effettivamente guardando il prezzo a chi lo conviene però siccome viene consumato con parassinonia abbiamo preso il buccaccio come si dice a Napoli o buccaccio piccolino in realtà c'è scritto nuovo formato da 220 grammi ma perché prima il barattolo o meglio il bicchiere da quanti ml o grammi era composto scrivete giù nei commenti poi Giulio ha scelto le farfalle della Dececco anche se le mie preferite sono quelle rigate però ecco ha detto mamma prendiamo queste farfalle della Dececcante perché le adora poi sempre Giulio ha preso della Tuc il crisp cotte al forno la versione alla paprika queste sono buonissime anche la versione classica è decisamente buona molto più neutra ma chi ama la paprika buone 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 buonissime per caso ho detto buone non me lo ricordo poi ho preso quattro confezioni non ve le faccio vedere ma credetemi sulla fiducia la rosina di casa datterino dolce succoso di collina solo pomodoro italiano anche di questi ve ne ho parlato e straparlato faccio fatta a capo quando è in un pallone prendeteli perché sono veramente buonissimi comunque per amore della conversazione e della testimonianza vi ho fatto vedere che ho preso quattro bucacci se no puoi dire ah ma non è vero picchi di pacchia picchi di pocci sto scherzando poi al repatto salumeria hanno preso gli uomini galbani salame ungherese al chilo 13 euro e 90 in questi giorni sto facendo freselle pane col pomodoro pennette col pomodoro basta un po' di mozzarella risa all'insalata per il resto non sto cucinando niente più poi hanno preso del gardani il prof profondo e presunto cotto come soffro prosciutto cotto premium al chilo 21 euro e 90 poi hanno preso la mortadella ovviamente col pistacchio 11 euro e 90 al chilo buonanotte poi sempre giulio questa è la spesa di giulio ringo con più crema alla nocciola questi qui e poi questi li ho preso io un pacco di pasta sono pennette rigatti si vede che non registro da tanto tempo penne rigate numero 41 di Alberto Poiatti pasta di simone di grano duro 100% siciliano della situanza allora sono buone o meglio la pasta è buona di questa marca non è tra le mie preferite perché dovete stare molto e quando dico molto moltissimo attenti alla cottura cioè praticamente appena calate la pasta nell'acqua dopo qualche minuto la dovete scolare non siamo ai livelli della pasta classica diciamo della linea base di Eurospin ma giù di lì ma come sapore e come consistenza se rispettate la la cottura quindi se la pasta la scolata è bella al dente per quanto riguarda il sapore la compattezza della pasta è decisamente superiore ma voglio dire non è semplici cioè non è difficilissimo creare una pasta più buona della linea base di Eurospin per non parlare del prezzo che è arrivata a costare al kill qualcosa di veramente imbarazzante lo dico pubblicamente signor Eurospin anche se dovrei fare un video proprio a parte signore Eurospin si dia una calmata ma proprio grossa 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 perché ha alzato i prezzi in una maniera esponenziale poi ultime cose che vi faccio vedere in tema food ho preso di Santa Lucia Galbani questa novità ed è nuvola spalmabile fresco alla ricotta meno 30% di grassi consistenza soffice e leggera la crema è questa ovviamente non l'ho mai provata qui vi metto la lista ingredienti e la dichiarazione nutrizionale la confezione è da 180 grammi abbiamo a primo posto la ricotta all'85% crema di siero di latte crema di latte sale fermenti lattici ed è senza conservanti sarà sicuramente molto buona perché appena leggo crema di latte voglio dire ne ho prese due confezioni perché questa se non erro era anche in offerta ma credo di sì metto a posto e vi faccio vedere qualche detersivo che ho preso per quanto riguarda i ho fatto così per quanto riguarda i detersivi ho preso di Sial la candeggina delicata bianchi e colorati smacchia e genizza per casa e bucato rimuove germi e batteri la confezione è da 2 litri allora credo di averlo detto più e più volte per quanto riguarda la candeggina per i delicati o meglio per quanto riguarda la candeggina che si può utilizzare per lavare i capi colorati per me l'unica che performa e che veramente fa il suo lavoro è quella originale quindi l'ace gentile tuttavia da ipercoppa c'era solo ed esclusivamente la confezione doppia che veniva quasi 8 euro e ho detto no perché comunque la utilizzo veramente poco ho detto per adesso prendo questa della Sial e poi quando sono da Tigotà o magari ritorno da ipercoppa trovo la confezione diciamo quella classica singola da 3 litri prendo quella questa di Sial non è malvagia ma con quella originale non ha nulla a che vedere poi ho preso in offerta due confezioni di candegginace proprio diciamo la classica l'originale per caso è bucato qui dice nuova formula ma a me sembra sembra stis comunque c'è la promozione due ace da 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 4 litri quindi stiamo parlando di 8 litri di candeggina a meno di 3 euro e qualcosa non mi ricordo vi metto sempre il prezzo questa è l'ace una l'ho lasciata giù in garage e ne ho salita solo una confezione così non non creo troppa confusione in lavanderia poi ho preso un ammorbidente che non si chiude bene o meglio la confezione sicuramente difettosa questa l'ammorbidente è questo qui si può notare monamour allora anche qui c'è la specifica nuovo con formula più concentrata a me sembra sempre liquido vabbè monamour extra profumo oro argan ammorbidente 60 lavaggi ma come dico sempre in un guardomaglio e lavaggio confezione da 3 litri ed è appunto della della Paglieri non è la mia fragranza preferita ma mancava la fragranza classica quindi felcio azzura classica classico e ho preso e ho preso questo qui infine ho preso il formato convenienza da 3 litri con ammorbidente additivo bucato igienizzante ammuchina questo qui non so se l'avete mai provato a me piace moltissimo ma proprio tanto 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 flacone 100% da plastica riciclata rimuove germe e batteri esperienza ammuchina dal 1939 igienizza in profondità in profondità già a basse temperature elimina i cattivi odori ho detto sì che la confezione è da 3 litri liquido con ammorbidente si usa sempre nell'ultimo risciacquo in lavatrice versare un tappo e mezzo circa 60 ml nella vaschetta dell'amorbidente per un carico standard da 4,5 kg di bucato a mano versare un tappo e mezzo sempre 60 ml per ogni 10 litri d'acqua fredda mescolare bene prima di effettuare l'ultimo risciacquo non usare direttamente il prodotto sul bucato igienizza in profondità elimina i cattivi odori attivo già a basse temperature adatto a bianchi colorati con ammorbidente per capi morbidi e profumati ma non so capite che stai no no è un detersivo no è un additivo per il bucato con ammorbidente non so perché era accattato tutto il terzivo liquido mamma mia capa mio come soffro io soffro vabbè l'abbiamo scoperto insieme come di cui sempre questo è un canale di verità pesce fritta e baccalà e quindi io le cose non le taglio come è uscita così ce la teniamo tutti quanti spero di avervi tenuto soprattutto compagnia spero che questo mio ritorno sia stato gradito per la maggioranza la gran parte di voi ma spero di sì grazie anche a tutti coloro che mi hanno scritto dei messaggi pubblici messaggi privati con su scritto meli come stai grazie 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 e noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo che mi trovate su instagram con il nick melimade melimadeinsud non mi ricordo più il nick del profilo ve lo metto qui e noi ci vediamo al prossimo video come sempre un bacio un abbraccio e un tarallino dalla vostra melimadeinsud e noi ci vediamo